Offerta aumentata, accordo trovato. Saab sarà cinese a metà novembre, stando all'intesa siglata tra l'attuale proprietario, l'olandese Swedish Automobile, e i cinesi di Panda e Yom Man. Ai tulipani andranno 100 milioni di euro, un quarto di quanto avevano pagato poco più di un anno fa General Motors, tra contanti e azioni privilegiate. Quasi cinque volte in più però della prima offerta che era stata avanzata, secondo i giornali svedesi. D'altra parte il titolo di Swedish Automobiles sulle borsa di Amsterdam ha perso oltre il 70% del suo valore nel 2011. Si vedrà se l'accordo raggiunto per la cessione dell'intera società salverà il pacchetto di investimenti da 245 milioni che Panda e Yom Man avevano promesso in una precedente intesa. La produzione è ferma da giugno. Con la vendita di Saab l'industria automobilistica svedese è interamente in mani cinesi dopo che Gili aveva acquistato nell'agosto 2010 il marchio Volvo.